Mister Maran, ci racconta la settimana di allenamenti? Com'è andata con il recupero di molti giocatori? Ma è andata in maniera diversa l'uno dall'altro, nel senso che comunque c'era... c'è chi magari poteva fare un determinato lavoro, chi altri, però la cosa importante è che molti di questi ragazzi siano tornati ad allenarsi, siano tornati qua nel gruppo perché poi ha dato sia morale e anche l'entusiasmo giusto per affrontare questa settimana. Pensa che qualcuno dei rientranti possa essere della partita domani? Sto valutando, sto valutando appunto perché poi li stiamo monitorando di giorno in giorno per capire un po' quello che possono essere le loro risposte. Adesso noi e anche domattina faremo la nostra rifinitura per capire chi può essere disponibile e come lo può essere. Questa gara apre un ciclo di cinque partite in poco più di due settimane. Come lo affronterete? Ma noi dobbiamo pensare a una gara per volta, dobbiamo pensare che comunque vivere tutte le partite come una finale, come abbiamo fatto a Verona e cercare di essere concentrati su quell'impegno che deve venire. Poi il resto viene di conseguenza. Adesso concentriamoci su questa gara che è molto insidiosa ma anche molto stimolante per cui dovremmo essere bravi ad affrontarla con il piglio giusto di una squadra che comunque vuole sempre dimostrare qualcosa. Cosa chiede ai suoi giocatori per la sfida con l'Inter? Chiedo questo, chiedo personalità, chiedo il coraggio per andare a fare le cose che abbiamo provato. Chiedo che ci sia da parte nostra la voglia di determinare in una partita con mille difficoltà, proprio per il momento di questo movimento e per la caratura tecnica dell'avversario. Per cui, al di là di tutto, dobbiamo essere concentrati su noi stessi e cercare di mettere in campo quelle che sono le nostre caratteristiche e cercare di uscire dal campo non lasciando nulla di intentato. Io credo che questo sia l'aspetto principale. Grazie. Prego.